Ed ecco qui l'IVA, aspetta che facciamo vedere gli occhi, eccola qui, una bellissima Serrier nero russo che arriva proprio dalla Russia. Nessiamo il bagnetto, qua ne abbiamo da lavare. Dopo lo shampoo un bel balsamo. Bella è la vita ragazza, si bella va. E mettiamo a lavare il liquido nel testo. Ma che bravo, che ragazza! Ciao! Non so se fa caldo. Non so se fa caldo. Non so. E' bello. Grazie. Ed ecco qui la bellissima diva pronta per essere una diva. Giusto diva? Fatti vedere bene questa bella bambina. E lei è un terrier nero russo. Vedo!